Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di Santa Teresina Dopo un breve profilo biografico della Santa reciteremo la supplica a lei rivolta per ottenere in dono le grazie di cui abbiamo bisogno e quindi per far scendere su questa terra le rose che lei ha promesso Santa Teresina nacque il 2 di gennaio del 1873 La bambina crebbe delicata, vispa e graziosa bella agli occhi di Dio degli uomini Nei primi anni della sua esistenza rimase orfana della mamma e fu educata dal padre e dalle sorelle Nel 1887 a 14 anni Santa Teresina chiese di entrare nel monastero delle Carmelitane ma non le fu concesso perché era ancora troppo giovane Non si scoraggiò e l'anno seguente con suo padre si unì a un pellegrinaggio per Roma E lì a Roma inginocchiata ai piedi del papa gli disse Santo padre per onorare il vostro giubileo permettetemi di entrare nel Carmelo a 15 anni Entrerete se il buon Dio vorrà rispose il papa E il 9 aprile del 1888 dopo giorni di preghiere e di mortificazioni le porte del Carmelo di Lisier si aprirono a ricevere da giovane L'8 settembre del 1890 emetteva i santi voti prendendo il nome di Suor Teresa del Bambin Gesù Entusiasta del bello avrebbe voluto dipingere e comporre versi essere la Suora Sacrestana per rimanere vicina a Gesù e occuparsi dei sacri lini Invece l'obbedienza la incaricò di lavare e rammendare gli abiti Il freddo era intenso, i cibi molto comuni Santa Teresina di delicata Costituzione soffriva ma non si lamentava e con la semplicità di una bambina diceva di essere il giocattolo di Gesù Così trascorse nove anni in monastero obbedienza, preghiera, sacrificio erano il suo programma Nell'aprile del 1895 ebbe come un presentimento della sua partenza Io morrò presto, diceva Non ho offerto al buon Dio che l'amore Ed egli mi restituirà l'amore Dopo la mia morte farò cadere sul mondo una pioggia di rose Voglio insegnare la mia piccola via agli uomini Voglio dir loro che vi è una piccola ma una grande cosa da fare qua giù Gettare a Gesù i fiori dei piccoli sacrifici La giovane carmelitana sul letto della sua ultima malattia era affranta dal dolore Soffro, diceva semplicemente È l'agonia senza mescolanza di consolazioni Mi manca l'aria della terra Quando respirerò l'aria del paradiso? Madre mia, il calice è al colmo Non avrei creduto di poter soffrire tanto Era sera e la campana del Carmelo suonava l'Angelus Suor Teresa fissò lo sguardo sull'Immacolata e sul Crucifisso E dopo una breve pausa esclamò O Dio, vi amo Espirò E ora, cari fratelli e sorelle Recitiamo la supplica a Santa Teresina Santa Teresa del Bambin Gesù del Volto Santo Dottore della Chiesa Che al nostro mondo stravolto dalla superbia Hai mostrato la via della piccolezza evangelica Insegnaci a diventare piccoli ed umili Conservando il nostro cuore immune da ogni malizia e dall'orgoglio Perché soltanto per questa via, secondo la parola di Gesù Potremo entrare nel Regno dei Cieli Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen Santa Teresa del Bambin Gesù del Volto Santo Dottore della Chiesa Vittima offerta all'amore misericordioso Chi hai scoperto la tua missione nella Chiesa Di essere cioè il cuore L'amore del corpo mistico del Signore Insegnaci a rendere preziose le cose che compiamo Anche le più piccole Con l'amore soprannaturale Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo Dottore della Chiesa Che ti sei impegnata a ricordarti di noi nella gloria del cielo Manda sul mondo quella pioggia di rose che hai promesso E soccorri tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito Ottienici soprattutto la grazia di piacere a Dio Facendo la sua volontà come hai saputo fare tu Abbandonandoci nelle sue braccia di Padre amorevole Che tutto dispone per il nostro bene Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen O Santa Teresa del Bambin Gesù del Volto Santo Dottore della Chiesa Che nella tua breve esistenza Sei stata esempio di angelica purezza Di forte amore e di generoso abbandono in Dio Volgi uno sguardo di compassione a noi che confidiamo in te Fa tuoi i nostri desideri E rivolgi per noi una parola alla Vergine Maria Di cui fosti figlia prediletta E che ti sorrise sul mattino della vita Dille che come Madre di Dio e degli uomini Ci ottenga con la sua potente intercessione La grazia che tanto desideriamo E che l'accompagni con una benedizione Che ci fortifichi in vita Ci assista in morte E ci conduca alla beata eternità Amen Santa Teresina prega per noi Grazie a tutti